Ciao a tutti, sono Daniele Giardina, trombettista. Questo è il mio canale YouTube dove vi parlerò di tromba e di quali esercizi mi hanno accompagnato nel mio warm up quotidiano. Esercizi che la maggior parte di voi conoscono già, ma vorrei soffermarmi su come li ho eseguiti e su quale obiettivo ho sempre avuto in mente perché non conta cosa fai ma come lo fai. Quindi iniziamo. Grazie. 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 Le considerazioni finali sono molto importanti. È compiere l'esercizio con un solo fiato e mantenere la nota lunga finale lunga 4 quarti. Se non arrivate alla fine, ripetete finché non raggiungete l'obiettivo. Ricordate? L'obiettivo è riuscire a mantenere tutta la frase con un solo respiro. Questo esercizio, così come gli altri che posterò nei prossimi video, servono per allenare i muscoli di tutto il corpo e di tutte quelle parti coinvolte nel sostenere un suono. Lavorando su a distanza, insegneremo ai nostri muscoli, anche i labiali, come comprimere l'aria, cosa che da solo le labbra non sono in grado assolutamente di fare. Questo è tutto, iscrivetevi al canale e se avete domande vi aspetto nei commenti. Ciao!